Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Come vedete l'anticiclone si riprenderà gran parte del Mediterraneo centro-occidentale spostando quella bassa pressione che ci ha interessato fra venerdì notte e le primissime ore di sabato portando rovesci qua e là sul nostro territorio e determinando un sensibile calo delle temperature e un incremento del vento. Ecco questo anticiclone nella giornata di domenica porterà un tempo abbastanza soleggiato molto ventoso in montagna e ancora le temperature si manterranno abbastanza fredde soprattutto al primo mattino. Ma cosa accadrà poi durante la settimana? Vedete come la grafica ci indica proprio queste due zone di confronto un'alta pressione che via via andrà a interessare sempre di più le nostre regioni settentrionali italiane mentre la bassa pressione si diciamo installerà nella zona fra Sardegna e Sicilia portando qui mal tempo ma per noi diciamo sarà una settimana in prevalenza mite e soleggiata. Andiamo con ordine vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani domenica che vede una giornata in prevalenza poco parzialmente nuvolosa su tutti i nostri settori vedete però farà abbastanza freddo uno zero termico al mattino intorno ai 1000-1200 metri di altitudine e nelle ore centraia giornata sui 1500 metri. Spireranno intense correnti nord orientali che diciamo determineranno una sensazione di particolare freddo soprattutto in alta montagna con un appunto un indice di raffreddamento abbastanza significativo pressione atmosferica in lento rialzo dovuto proprio alla conquista dell'anticiclone che garantirà poi stabilità atmosferica nei giorni successivi sarà una bella giornata di sole fin sulla città di Bergamo e sul lago di Iseo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata ripeto abbastanza ventoso soprattutto sul lago di Iseo. Evoluzione del tempo per la settimana inizieremo con una giornata di lunedì con cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso temperature anche in graduale ripresa vedete temperature minime intorno ai due gradi nella città di Clusone massime non superiore ai 17-18 gradi zero termico nelle ore centraia giornata a quota 2000 metri. Martedì cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso nulla varierà l'unica cosa che avremo un rialzo termico abbastanza significativo con punte anche di 20 gradi sull'alto piano di Clusone 21-22 gradi anche nella città di Bergamo zero termico in deciso rialzo a 2700 metri di altitudine. Mercoledì cambierà poco sarà una pressoché una giornata simile a quella di martedì con temperature anche minime in graduale ripresa ho indicato qualche velatura di passaggio nel corso del pomeriggio su tutti i nostri settori orobici zero termico vedete addirittura a 3100 metri di altitudine. Giovedì ho indicato qualche nuvola in più sul nostro territorio ci sarà qualche addensamento nel corso della giornata temperature comunque ancora molto piacevoli molto miti per il periodo vedete con temperature comprese fra i 6 gradi di minima e i 21 gradi di massima. Venerdì giornata ancora caratterizzata dal bel tempo dal cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso con una pressione atmosferica vedete anche in deciso rialzo oltre 1026 millibar zero termico anche qui nelle ore centrali della giornata intorno ai 3100 metri di altitudine quindi direi una settimana caratterizzata dal tempo in prevalenza soleggiato su tutti i nostri settori e con temperature molto più primaverili rispetto ai giorni precedenti che potranno toccare anche punte di 20 21 gradi un po' su tutti i nostri settori e per il mete tutto vi aspetto sempre qui sabato prossimo su antenna 2 1 1 1 2 4 4 4